dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza il bruno nemico ha individuato il contenitore di biorischio il nemico ha individuato il contenitore di biorischio pronti ad accoglierlo posizionamento tappeto muro rinforzato non 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 un operatore alleato rimasto il nemico si sta impossessando del contenitore intervenite all'istante ultimo attaccante rimasto in vita difesa contenitore di due rischi in pausa pensate al nemico squadra d'attacco eliminata missione completata trovate il contenitore di biorischio ben fatto il contenitore di biorischio è stato individuato 10 secondi 5 secondi raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo il contenitore di biorischio e difendetelo 1 1 4 4 5 5 6 Grazie. Per la squadra alleata. Attaccante neutralizzato. Per la squadra alleata. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Difendete la stanza. Muro rinforzato. Trovate il contenitore di biorischio. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. Di pentolio. Pronti ad accoglierli. Di pentolio all'attimazione. hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore ultimo nemico attivo il sensore i difensori hanno eliminato tutti i nemici attivo 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 Grazie a tutti.